Anche Gesù, nell'ultima passione, nell'ultimo momento, ha voluto vicino a sé la mamma. Nel momento della dipartita, cosa fa Gesù? Gesù dice alla mamma, ti affido i miei figli, in Giovanni affida tutti noi a lei. E quindi noi oggi, con fede, ci dobbiamo rivolgere alla nostra mamma. E anche noi oggi, che siamo afflitti da tante prove, siamo afflitti da questo virus che ci sta distruggendo, spiritualmente e anche materialmente, dobbiamo ricorrere a lei, alla Madonna, perché ci liberi, ci aiuti. Soccorra specialmente coloro che in questo momento sono in pericolo di morte, colpiti da questa malattia, questo virus. E allora, con coraggio, noi alla fine della Santa Messa pregheremo la Madonna, perché liberi e salvi tutti gli ammalati da ogni male. E Gesù dice a ciascuno di noi, io vi ho affidato la mia mamma, trattatela come mamma e abbiate fiducia in lei come una mamma.